Mettere in rete, recuperare e rendere fruibile ai turisti il patrimonio storico, culturale e agropastorale delle province di Pescara e Chieti è l'obiettivo del master plan delle case di pietre di terra messo in piedi da un gruppo di lavoro formato da architetti e dai tecnici della provincia di Pescara. I tolos e le case costruite in terra cruda infatti sono veri e propri gioielli incastonati fra le montagne e i paesi pedemontani della Maiella che hanno bisogno di piccoli interventi di manutenzione e di recupero. Ci mostrano la maestria di contadini, pastori che conoscevano il loro territorio e conoscevano i materiali che avevano a disposizione il loro territorio e in più sapevano come il loro territorio era fatto, come reagiva, che era sottoposto a terremoti e quindi utilizzavano delle sapienze costruttive che rispondevano proprio a questi elementi naturali. Sono sette i paesi interessati dagli interventi. Per le case di terra, case l'incontrada, manopello, turri, valignani e rocca montepiano. Per le case in pietra invece, letto manopello, abbateggio e rocca morice. Sono identificati quelli più significativi sui territori. Circa 500 mila euro. Questi fondi sono arrivati alla provincia di Pescara nel 2016. Qualcuno oggi dirà che questi fondi li abbiamo portati noi, però hanno dimostrato anche la loro incapacità di renderlo esecutivo e noi ci siamo impegnati dal settembre 2019 per concretizzare ed oggi siamo arrivati già a gara fatta, quindi assegnata anche la ditta.